Siracusa News non accetta la fine della relazione con la compagna incendia la macchina all'amica. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Siracusa hanno così arrestato Angelo Dicembre, classe 85, già noto alle forze dell'ordine per il reato di danneggiamento per incendio. Dicembre, infatti, non accettando la fine della relazione con la compagna, ha incendiato la macchina di un'amica della ex. La vittima, avendo sentito dei rumori insoliti fuori dalla sua abitazione dove appunto era parcheggiata la macchina, si è affacciata alla finestra vedendo l'auto in fiamme e Dicembre fuggire subito dopo aver alimentato le fiamme con altra benzina che aveva portato sul posto all'interno di una bottiglia di plastica. La donna ha subito contattato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia alla quale ha fornito una prima descrizione dell'autore che ha permesso ai militari di poter risalire all'identità del colpevole. Una volta in caserma l'uomo ha ammesso la sua responsabilità e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Siracusa è stato portato alla casa circondariale di Cavadonna in attesa di giudizio.